ok ci siamo con un po di ritardo perfetto allora iniziamo questa presentazione questa sera cosa andiamo a fare questa sera come ogni mese andiamo a presentare la nostra attività che è un progetto lavorativo che è maggiormente al femminile intanto mi presento io sono claudia e vengo da una famiglia di commercianti nel 2011 abbiamo avuto una forte crisi abbiamo perso completamente tutto quindi mi sono ritrovata a ripartire da zero mamma single con un figlio piccolo ho fatto qualsiasi tipo di lavoro pur di mantenermi e poi nel 2014 conosco il network marketing in quel momento facevo la commessa e era disperata ricerca sia di un guadagno extra ma anche di un'alternativa lavorativa perché non mi piaceva assolutamente il lavoro che facevo quindi inizio con tanti pregiudizi scetticismo paure varie ma non avevo altre alternative no per ottenere un guadagno extra quindi trovo i soldi per iniziare e dopo il secondo mese inizia arriva il mio primo guadagno di 399 euro quindi da lì capisco che comunque era vera una era vero un lavoro online nel giro di dieci mesi mi crea una base economica con questa attività e decido poi di licenziarmi non è stato facile conciliare tutti e due i lavori figlio problemi vari eccetera però quando hai una forte motivazione vi posso assicurare che le soluzioni si trovano quindi adesso sono quasi dieci anni che faccio questo lavoro e vivo solamente di questo ho ottenuto veramente tanti risultati ho realizzato tanti sogni tra cui anche la casa dove vivo adesso che ho acquistato l'anno scorso e quello che vedete è il bonifico uno dei bonifici settimanali perché comunque l'azienda ci paga ogni venerdì del mese vi sembrerà magari assurda come cifra vi posso dire che non sono guadagni facili perché comunque per ottenere determinati risultati bisogna impegnarsi e anche tanto perché questo è un lavoro autonomo non è un lavoro da dipendente la differenza qual è rispetto a una classica attività tradizionale che qui questo è un lavoro online e il guadagno è veramente proporzionato all'impegno che ci metti ok non ci sono poi tra le altre tra le altre cose spese fisse spese iniziali adesso vi faccio vedere bene allora quali sono i tre aspetti che una donna desidera migliorare maggiormente l'aspetto fisico l'autostima la crescita professionale l'aspetto economico e molto spesso si fa fatica a raggiungere questi obiettivi perché troppo complessi troppo dispendiosi si rischia troppo e quindi molto spesso si molla e si resta così come si è qui hai la possibilità in realtà di raggiungere questi obiettivi ti voglio dire però una cosa che tu fai network marketing ogni giorno ma non te ne rendi conto ti faccio l'esempio proprio pratico del ristorante no chiunque di noi sicuramente sarà andato in un ristorante magari capita di fare una storia perché ha un piatto ristorante bello e che cosa succede che tu fai pubblicità a quel ristorante ma non te ne rendi conto quindi puoi portare i clienti noi a quel ristorante ma non vieni pagata ecco quello che noi facciamo sui social è un po' questo si tratta proprio di questo qui solamente che appunto veniamo pagati dall'azienda con la quale scegliamo di collaborare adesso passo la parola a Teresa che ci racconterà Teresa è una delle tre ragazze che parleranno questa sera quindi rimanete fino alla fine perché comunque vi faranno vedere anche i loro guadagni Teresa vai ok ci sono ci sono grazie Claudia allora buonasera a tutti intanto veramente grazie per essere qui tutti quanti perché io dico che non è mai scontato darsi un'opportunità ma nello stesso tempo anche capire come funziona questa attività allora io mi presento sono Teresa Piscitelli sono una mamma e sono un'ex parrocchiera come ho conosciuto questa attività volevo solo una semplice eh trasformazione fisica come avete visto io parto direttamente eh il programma quindi da cliente soddisfatta conosco così questa questa attività e ehm però prima che comunque mi approcciassi a questa attività eh io non sentivo l'esigenza proprio di avere un un lavoro proprio poiché io già avevo un mio lavoro tradizionale quindi un mio lavoro primario che era la parrucchiera io ho sempre fatto quello nella mia vita quindi capirete che quando mi è stata proposta questa opportunità lavorativa non è che mi sono detta subito di no anzi essendo che eh vedevo tante donne che avevano appunto cambiato la loro vita proprio grazie al network marketing mi sono detta ma sì dai che che cosa ho da perdere tanto alla fine erano ventinue e novantacinque detto va voglio provare anche perché eh essendo che sono partita da cliente soddisfatta conosco bene il prodotto a quale ho avuto una bellissima trasformazione allora perché ecco non non dare la mia stessa opportunità a tutte queste persone io inizialmente comincio proprio la mia attività proprio proprio dal network marketing come ho già detto prima per hobby perché come ho già detto io non avevo questa forte esigenza però purtroppo a causa covid nel 2020 sono stata costretta come tutti i lavori a chiudere la serranda e quindi ero una di quelle ero dove sono rimasta a casa senza un lavoro dove facevo solo ed esclusivamente la mamma ma nello stesso tempo essendo che almeno io vi parlo di me qui al sud eh soprattutto qui al sud mh purtroppo diciamo non ti mettono a posto e qui ero una di quelle anzi ho lavorato per diciannove anni ma non ho mai avuto veramente mai un contributo proprio per una questione di fondo pensionistico io allora che cosa ho fatto essendo che questa opportunità lavorativa me l'era data in insieme comunque al mio lavoro primario allora mi sono detto ok ho detto cosa ho da perdere quindi dal mio piano b ho fatto diventare piano a in quel periodo perché poi diciamoci la verità eh stando a casa senza uno stipendio mi sono un po' reinventata e quindi così ho fatto io vi vi dico ancora un'altra cosa quando lavoro il mio stipendio mensile era solo esclusivamente cinquecento euro al mese quando ho iniziato a dare proprio valore importanza a questa opportunità lavorativa allora mi sono detta cavolo ho detto qui c'è qualcosa che c'è molto proprio qualcosa di più allora mi sono detta e se io mi impegnassi di più in questo in questa in questo questo lavoro cosa potrebbe uscire io non me lo dimenticherò mai che il mio primo mese che poi primo mese che sarebbe la mia prima settimana perché noi abbiamo comunque la nostra azienda che ci vaga settimanalmente io da quel cinquecento euro che guadagnavo al mese facendo la mia professione primaria io li ho guadagnati in una settimana e così andando ho detto cavolo ho detto c'è porca miseria sono fuori casa anzi nonostante fuori casa poi quando torni a casa che devi fare devi fare il doppio lavoro perché essendo mamma io a me parlo della mia esperienza essendo mamma che succede succede che non solo devi fare il tuo lavoro primario poi torni a casa devi preparare le bimbe devi preparare la cena devi sistemare devi fare poi devi preparare il pranzo del giorno dopo insomma veramente io ero sempre in continua evoluzione ma per per che cosa vuoi per cinquecento euro al mese quando poi mi sono detta e mi sono approcciata a questa attività io ho capito realmente quello che poteva offrirmi quello che poteva darmi detto cavolo in una settimana cioè io ho guadagnato quanto in un mese questo ovviamente sono i a lungo andare ovviamente perché poi io non ho iniziato subito cioè nel senso con questi ehm con questi guadagni settimanali che voi giustamente vedete sicuramente ci sarà molto molto impegno perché è un conto fare un lavoro dove eh ci metti impegno la costanza è un conto fare un lavoro dove diciamo dai quel poco valore ecco io gli ho dato valore e i frutti si vedono soprattutto quando dai valore a te stessa e soprattutto all'opportunità che ti sei data e questo ovviamente è il mio i miei i miei tre assegni che poi alla fine ogni settimana noi riceviamo comunque questa gratitudine e niente ehm questo ovviamente è la mia storia e oggi l'ho resa full time da quattro anni ho abbandonato il mio lavoro tradizionale e oggi sono una mamma libera una mamma indipendente ma soprattutto fiera di di portare uno stipendio a casa dove eh sono capo di me stessa dove posso stare comunque con i miei figli e perché no ecco dargli comunque un qualcosa in più che soprattutto essere una mamma presente per loro e niente che io ho finito passo la parola non so a chi no adesso ci sono ci sono di nuovo io io ho sbagliato perché ho scritto guadagno di tre settimane invece in realtà ho letto adesso che il guadagno delle due settimane comunque vabbè sì due settimane sì non vi preoccupate tranquilla grazie Teresa grazie a te allora andiamo avanti poi più avanti tra un pochino vi presenterò le altre due ragazze quali sono i vantaggi di questo business allora prima di tutto come abbiamo detto puoi andare a migliorare il tuo benessere fisico no perché avete visto Teresa avete visto anche la mia trasformazione fisica quindi scegliendo il prodotto prodotto per le due esigenze fisiche è un business chiave in mano perché hai a tua disposizione una formazione completa e gratuita un supporto costante su whatsapp e attraverso formazioni live settimanali e di team aziendali è completamente online non hai spese fisse e puoi iniziare senza dover rinunciare al tuo lavoro perché lo puoi gestire in piena autonomia proprio l'ho raccontato prima con attraverso la mia storia gestione facile cioè l'azienda che si occupa di tutti gli aspetti logistici e amministrativi e soprattutto non devi fare il magazzino quindi praticamente è a rischio zero ma perché dovresti iniziare questa attività cioè quali possono essere i tuoi obiettivi ad esempio per ottenere un guadagno extra oppure magari ti piace viaggiare e non hai possibilità economica o comunque di tempo ti piacerebbe acquistare una casa come ho fatto io acquistare un'auto nuova un'alternativa a un lavoro che non ti piace oppure aiutare la tua famiglia anche anche quello ho fatto in questi anni di lavoro ma adesso arrivano i dubbi perché comunque sicuramente hai ascoltato la mia storia quella di terezza però ti saranno sicuramente venendo dei dubbi non sono social non ho tempo non ho disponibilità economica non mi piace vendere queste sono le obiezioni più comuni allora ti dico io le avevo tutte non ero social ma nessuna di noi era social quando abbiamo alcune non avevano addirittura un profilo la maggior parte delle persone che iniziano la iniziano come seconda attività e quindi significa che fanno lo iniziano come secondo lavoro e di conseguenza il tempo ce n'è veramente poco e ti posso assicurare però se hai una forte motivazione lo ottimizzi e il tempo si trova perché l'abbiamo trovato tutte non hai disponibilità economica a maggior ragione dovresti iniziare questa attività pensate che quando io ho iniziato però per avere i soldi per iniziare per acquistare i prodotti mi sono venduta i tun che avevo dentro casa e lo dico spesso perché comunque è una cosa che mi fa ridere adesso però è l'unica soluzione che avevo trovato non mi piace vendere in realtà è vero che questa che dietro c'è la vendita di un prodotto ma non andiamo assolutamente a fare le venditrici perché sarebbe le persone scapperebbero ok che cosa facciamo noi social andiamo a raccontare il nostro stile il nostro stile di vita la nostra trasformazione fisica e quindi le persone verranno in automatica a chiederci informazioni adesso passo la parola a maria che è l'altra ragazza di questa sera mamma tris maria ci sono ok perfetto mi sentite perfetto ci siamo raccontaci di te sì ok allora buonasera a tutti grazie claudia per l'invito e ringrazio tutte le persone qui presenti allora mi presento scusate l'emozione allora sono maria ho 33 anni e sono una mamma tris conosco questa attività innanzitutto perché parto da cliente super soddisfatta dopo la mia prima gravidanza accumulavo chili anno dopo anno dopo tanti fallimenti leggo sempre su facebook leggo 28 giorni strong programma blender non so perché ma questa cosa mi mi dava sempre all'occhio e il mio estinto non ha sbagliato in un momento poco particolare dove finanziariamente non era il caso mi sono trovata in un momento proprio buio 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 dove davanti allo specchio piangevo perché vedevo proprio la mia trasformazione fisica dopo la mia gravidanza ero arrivata il secondo il terzo anno a prendere circa 20 22 kg mia mamma un giorno mi disse maria se vuoi provarci vai ti finanzio e poi magari mi restituisci questo è proprio per far capire a tutti che quando si vuole non ci sono scusi a niente parto e devo dire che grazie a questo programma dopo due mesi ho ritrovato me stessa ho perso 16 chili con un pacchetto pur nourish power boost e binali e non vi dico dopo due mesi la mia rinascita la mia felicità tutte le persone accanto stavano bene perché io penso sempre che siamo noi in primis a dover stare bene per stare bene tutte le persone intorno a noi cosa succede che eh la mia attuale sponsor arrivata al mio obiettivo mi propone di aprire il codice ovviamente la mia risposta è stata no no perché ero scettica avevo paura del giudizio della gente e però poi ho pensato ho detto vabbè apro il codice prendo uno sconto del trenta per cento mai avrò perso allora forse erano venticinque euro se non erro l'iscrizione quindi non succede niente devo dire eh che allora già avevo lavoro di artigiana quindi lavoravo eh solo che il mio lavoro era sartuario quindi lavoravo a dicembre lavoravo a pasqua lavoravo san valentino quel periodo più o meno era novembre quindi non lavoravo tantissimo ho detto vabbè apriamo questo codice fortunatamente ho fatto i primi clienti fin da subito perché ho lavorato per tanti anni facendo la commessa in un negozio noto della mia zona quindi le persone avevano fiducia in me cosa è successo che però poi è passato dicembre è passato gennaio avevo io tanto lavoro nel mio lavoro precedente e quindi ho lasciato stare nel duemilaventi c'è la pandemia c'è la pandemia e quindi il mio lavoro è proprio crollato perché ovviamente non c'erano feste non c'erano più niente non c'erano compleanni e quindi ho detto vabbè dai ora ci provo eh vedo un po' di cosa si tratta in realtà poi è successa un'altra cosa nel duemilaventi ho scoperto di eh essere in attesa della mia seconda gravidanza questa gravidanza mi ha portato comunque a stare a letto e io immobile non sapevo realmente cosa fare quindi ho iniziato a vedere le zoom ho iniziato a vedere eh il gruppo clienti ho iniziato a vedere il gruppo delle colleghe che erano sempre più affiatati poi io essendo una persona molto socievole amavo proprio questi rapporti che si erano creati e quindi ho iniziato a a fare la storia parlata dal letto a parlare un po' di me poi c'è stato un crollo perché la mia gravidanza non è andata bene a sei mesi e come ben capite non è una cosa facile solo che grazie a questa attività che mi ha portato a non mollare io ho avuto una riconquista perché quell'anno mi è stato tolto tanto ma mi è stato dato anche tanto perché il gruppo di quelle persone che comunque sentivo così affiatate sono state per me una vera forza perché sono state sempre presenti sono stati sempre al mio fianco e devo dire che è stata proprio la cosa principale che non mi ha fatto mollare perché ho sentito quelle persone che in quel momento erano quasi sconosciute le ho sentite proprio al mio fianco e è stata per me una cosa importantissima che mi ha aiutato a ripartire e vabbè da allora poi non mi sono più fermata ci sono stati alti e bassi in quel momento più alti perché poi sono ripartita proprio da me perché volevo eh assolutamente eh portare a casa eh i risultati dopo un po' eh succede che abbiamo deciso di di iniziare di riprovarci e quindi avere un'altra gravidanza questa volta l'ultima gravidanza che eh è la trasformazione che vedete qui in foto sono mamma eh di gemellare da quindici mesi eh ho scoperto di eh di essere in attesa di due gemelle non vi dico in quel momento la paura la paura no di non poter tornare in forma perché sapevo che tra le mani avevo un percorso naturale un percorso certificato un percorso che potevo comunque seguire sia in allattamento che in gravidanza e però le paure erano altre ovviamente dopo l'esperienza passata quindi diciamo che in questi anni ho avuto degli alti e dei bassi eh un altro un altro traguardo importante che mi ero posta in quell'anno è stata una qualifica per me tanto importante ricevuta quindici venti giorni eh prima di eh partorire eh ho avuto un altro momento no è stata ehm una brutta esperienza dopo il parto gemellare dove le mie piccole non sono state bene ma nonostante tutto non ho non ho mollato nemmeno un giorno il business e ci sono ancora oggi degli alti e dei bassi perché non è facile se mi dite ad oggi eh questa attività se è facile io vi rispondo nì perché come tutte le cose c'è bisogno di costanza e quindi non è facile ma non è impossibile e ad oggi io dopo tre anni perché sono tre anni che svolgo questa attività sono più di due anni che faccio questa attività full time vi posso dire che per me una mamma tris è l'unico lavoro che mi può dare tanto è l'unico lavoro che a prescindere da una eh da una trasformazione fisico economica eh è l'unico lavoro che mi ha emozionato che mi emoziona ogni giorno è l'unico lavoro che ogni giorno mi dà quella carica ed è l'unico lavoro che ha portato la mia rinascita soprattutto mentale io era arrivato al punto tutti i giorni di stare in pigiama anche fino alla sera oggi il mio lavoro eh svegliarmi la mattina vestirmi prepararmi mettermi allo specchio truccarmi e parlare con le persone che mi seguono con le persone parlo dei miei momenti down nei miei momenti up e e questa per me una grande vittoria perché dopo la mia prima gravidanza mi ero vista veramente trasformata e ad oggi dopo tre anni eh vi posso dire guardando le foto che mi sento molto meglio ora che che tre anni fa e la più grande rivincita è stata la mia rinascita perché solo grazie a questo lavoro l'ho ottenuta perché sono sicura che senza eh oggi eh non ne posso fare più o meno proprio nei momenti difficili mi rendo conto che è l'unica cosa che dopo il marito e i figli mi fa battere il cuore grazie Maria grazie mille grazie a voi allora andiamo un attimino sul pratica adesso non ve ne andate perché dopo ci sarà Luana che avete visto due mamme Luana invece non è mamma e quindi ascoltere ascolteremo una storia di una ragazza single no non è single ho detto non è mamma non è single assolutamente allora ehm come funziona in pratica questa attività che cosa devi fare scegli il percorso più adatto alle tue esigenze fisiche inizia a condividere la tua trasformazione fisica con chiunque sui social e nella vita di tutti i giorni e vedendo la tua testimonianza le persone iniziano a chiederti informazioni sul programma e che cosa succede che inizia a fare il primo cliente più avanti ti faccio vedere anche quanto puoi guadagnare con un cliente in media quindi quali sono i tre vantaggi sicuramente andrai a migliorare il tuo aspetto fisico e alla possibilità di acquistare i prodotti al con lo sconto del 30 per cento non devi proporre nulla perché sono le persone che arriveranno da te a chiederti informazioni proprio vedendo la tua trasformazione fisica e appunto dalla tua trasformazione fisica inizi ad ottenere il tuo guadagno extra e ti faccio un esempio prendendo come esempio gocce e fornure cioè che sono i due prodotti diciamo più venduti intanto appunto hai lo sconto del 30 per cento quindi da 294 le vai a pagare 209 vai a risparmiare 85 euro circa e guarda qui quanto è il guadagno di un solo pacchetto circa 100 euro quindi tu facendo 5 clienti al mese vai a arrivi ad ottenere un guadagno extra quindi è veramente molto molto semplice ok ora è il turno di luana e poi siamo in chiusura luana eccomi oh ecco buonasera a tutte buonasera mia family allora inizio con il sorriso perché questo è quello che mi ha ridato questa attività e che io ho avuto sempre in realtà sono sempre stata una ragazza positiva sono luana ho 38 anni e appunto io ho sempre cercato di mettere la solarità nella mia vita però arriva un momento di dopo tante ricerche vedete la mia trasformazione fisica era arrivata a un punto che comunque ne provavo di ogni nutrizionisti integratori io veramente mi sono appassionata all'integrazione da subito e ho provato mi sono lasciata trascinare da anche dalle aziende più famose che vediamo tutti i giorni davanti però come tutte le pubblicità noi siamo attratti da quello e poi fortunatamente sono arrivata a questi meravigliosi prodotti a questo meraviglioso programma che è l'unico l'unico che oggi dopo un anno e mezzo mi ha donato non solo una trasformazione fisica a livello di benessere perché quello che vedete è la realtà e come sono adesso come l'ho raggiunta in un mese e mezzo e utilizzando i prodotti che abbiamo quindi quelli adatti alle mie esigenze e dalle quali non mi sono smontata di una virgola quindi che funziona io lo dimostro tutti i giorni cosa ho fatto quando acquistato questo prodotto la persona che mi stava vendendo questo prodotto che adesso ecco faccio anche io mi ha proposto di aprire il codice quindi di entrare in attività io sono una commessa da 18 anni io vi dico solamente che ho pensato che dovevo spendere 30 euro in più per poi comprarmi un'attività avevo già io avevo già delle fotine no su su instagram su facebook però non avevo una motivazione effettivamente perché tutti mettiamo le foto della nostra della nostra vita ma vedermi spuntare davanti un'occasione con 30 euro di comprarmi un'attività la vedevo da una parte tanto attraente e quindi ho pagato 30 euro dall'altra dico chissà questo non è proprio il momento era un momento devastante nella mia vita io lavoro faccio la commessa da 18 anni ora mi hanno da qualche anno mi hanno messo a part time ma comunque un part time obbligato a stare sempre in negozio perché io apro la mattina alle 10 chiudo alle 13 riapro alle 17 chiudo alle 20 quindi è vero che c'è tanto tempo ma si riduce a zero perché il tempo mio è zero non posso vivere non posso viaggiare devo aspettare le ferie che io adesso ho finito il periodo di natale veramente ancora non manca la befana ma ancora non so qual è il mio periodo di ferie sia a gennaio o a febbraio quindi sto appesa sempre a un filo da 18 anni questo per le ferie invernali questo per le ferie estive questo è tutta la mia vita in 18 anni cioè io adesso dopo un anno mi rendo conto di quanto tempo ho perso nella mia vita se è servito però a trovare questa attività io l'ho azzerato perché l'ho riempito in un anno solo di questa attività perché come faccio questa attività nel tempo che ho libero io vado a dormire senza che ho postato una foto che ho parlato con i miei gruppi che ho aiutato qualche persona a rinascere a farvi scoprire quanto è meravigliosa questa attività che a me ha donato la vita vi dico la vita perché io ho risvegliato i miei sogni ho iniziato a comprare all'inizio voi vedete un assegno che ho quando iniziato agosto settembre dove avevo preso zero io ero felicissima ero stupendamente felice perché già stavo attaccata al mio paracadute già vedevo i miei sogni realizzati già avevo questa possibilità con 30 euro raga io nella mia vita ho fatto 18 anni una commessa che fa arriva a un certo punto si vorrebbe aprire un negozio ma è impossibile oggi non puoi andare a fare neanche la spesa io ho iniziato a prendere 8 euro 20 euro 50 euro 100 euro 300 euro in una settimana con un telefono quando io devo alzarmi la mattina andare a lavorare tornare riandare a lavorare ritornare fare sempre la stessa vita uguale senza essere felice anche di investire i miei soldi perché non mi portano a nulla oggi sono riuscita a raggiungere questo settembre in solo un anno lo stipendio che io prendo da 18 anni cioè mi viene da ridere perché non ci ho messo cioè ci ho messo la la gioia di lavorare posso dice ho potuto comprare ho potuto pagare l'assicurazione della macchina ho potuto fare una spesa in più mi sto facendo dei regali che non potete capire e per me ogni euro anche quando ho preso un euro ho sempre pensato alla possibilità che ho di andare avanti di poter guadagnare sempre di più e lo faccio ragazze si riduce nel nel piccolo breve tempo che ho avuto che ho perché in realtà io adesso sto di fronte a voi poi dopo magari mi metto al telefono e posso postare una foto posso parlare con una persona sto conoscendo queste ragazze che fanno questo lavoro che io non ho mai avuto delle colleghe così cioè in tanti anni che si supportavano che davano delle dritte per poter migliorare e questo migliora dentro di te prima di migliorare fuori di te poi hai dei prodotti straordinari che sul mercato io non mi sarei mai potuta permettere di comprare delle cose così importanti ma per me oggi costano troppo poco per quello che mi hanno donato perché io ero una che si doveva sbattere di allenamenti e ieri mi sono andata a regalare un massaggio e la ragazza che mi ha fatto il massaggio mi ha detto vabbè ma tu ti alleni tu ormai a te non c'è acqua non c'è acqua io mi sono fatta i massaggi di l'infrodrenaggio per una vita perché io soffrivo e avevo dolore e ho delle cioè ho dei documenti che lo certificano quindi eh questa è la cosa di cui io mi vanto e questa è la cosa è la soluzione perché non è una vendita di prodotti ma io non vedo l'ora che una donna mi guarda negli occhi o mi scrive un messaggio guarda la mia foto per dirle tu devi darti questa opportunità di trasformazione ma di lavoro perché poi avrai tanti 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 di quei vantaggi che di questa attività ti puoi solo innamorare io dopo un anno non pensavo di arrivare a prendere anche una qualifica che al lavoro in 18 anni di lavoro io sono rimasta sempre la stessa commessa di quarto livello cioè mi posso impegnare tanto mi posso impegnare poco ma io qua mi sto veramente prendendo i meriti quindi se sei una ragazza ambiziosa se vuoi sognare ma non sognare a parole vuoi realizzare ti vuoi comprare box doccia lavora divertiti stai insieme alle persone giuste vuoi comprare qualcosa di più a tuo figlio a tua figlia qua lo puoi fare cioè non c'è cosa ragazze oggi costa troppo io ho pagato con l'online con il mio lavoro online un una bolletta di 700 euro di contatore dilazionata tutto con il mio lavoro online e oggi dal mio lavoro perché non è che devo lasciare per forza il mio lavoro sicuramente io voglio essere oggi dopo che ho vissuto questo voglio essere un'imprenditrice online perché io qui non fatico io qui mi prendo veramente il merito ma ragazze io oggi ho preso due stipendi due stipendi due stipendi sono tanti 20 euro per me sono tantissimi 50 euro in più non devo fare niente di meno cioè io non devo fare in più perché già stavo comprando i prodotti per per perché mi servivano per il mio benessere quindi questa non è un'occasione è doveroso darvi un'opportunità di vita perché la vita veramente costa cara ma è una sola quindi io vado avanti per il mio sogno mi impegno e non posso non potrò mai fare a meno di questa opportunità voi sono sicura che farete la stessa cosa vabbè che dire basta chiudiamo adesso luana dopo quella vabbè tu lo sai che io non mi fermerei mai perché io sono troppo lo so lo so emozionata e gasata lo so leggi legiti intanto infatti i complimenti sulla chat dopo eh non li ho letti perché ero impegnata andiamo grazie 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 a te allora perché però abbiamo scelto partner in co perché comunque ci sono tante aziende no sul mercato del network marketing al mondo perché è un'azienda che ha fatturato più di 300 milioni nel 2022 ha 70 mercati aperti in tutto il mondo quindi tu seduta da casa puoi crearti un team internazionale più di 30 prodotti certificati e opera nel mercato della bellezza del benessere che è sempre in continua crescita ma andiamo a capire perché questi prodotti sono diversi no perché comunque in commercio ce ne sono tanti di prodotti simili a parte vabbè l'autorizzazione del ministero della salute quella pubblicatoria questi prodotti che vedete hanno più di 18 certificazioni ottenute e sono prodotti brevettati e nessun altro brand potete andare a cercare su google ha queste caratteristiche sono prodotti adatti a qualsiasi tipo di esigenza e sono prodotti naturali al 100% basso contenuto glicemico zero zuccheri aggiunti solo proteine vegetali e non contengono soia siamo in chiusura ok quindi che cosa serve per iniziare cosa devi fare rivolgiti subito alla persona che ti ha invitato qui questa sera e apri il tuo codice con 29 euro e 95 che cosa riceverai in ufficio online personale avrai accesso anche dall'app formazione aziendale e formazione e supporto del team e la prossima volta sarai anche te ad invitare altre persone a questi eventi io vi ringrazio e complimenti a luana a maria a teresa e siamo stati parecchi questa sera in questa zoom grazie mille a tutti buona serata al prossimo evento ciao ciao ciao